bretella germania ost ex dotazione bretella ben rifinita attacchi tutti in vero cuoio vera pelle in colore caratteristico feldgrau grigio verde sia sul retro che sul davanti doppia bullonatura metallica e sul davanti troviamo due morzetti che servono per regolare la bretella in altezza molto solida molto robusta una particolarità la doppia pettuccia in pelle va agganciata sui bottoni che applicherete ai pantaloni o se ne sono già provvisti vengono agganciate lì non si sganceranno mai come quelle a pinzetta per la taglia bisogna guardare sul retro hanno delle incisioni potrebbero variare nella tonalità del colore leggermente molto funzionali e ben fatte